Troppi di tardi nei rimborsi, così la Codacons di Roma torna all'attacco sul fronte delle quattro banche salvate per decreto nel novembre 2015, tra cui Banca Etruria. Nonostante il 30 giugno scorso siano scaduti i termini per l'emanazione dei decreti necessari per disciplinare il ricorso agli arbitrati, non si parla ancora di come e cosa fare. E così è stato presentato un esposto alla Procura di Roma. Un ritardo inaccettabile che continua a privare risparmiatori dei loro soldi, denuncia il presidente di Codacons Carlo Rienzi. I rimborsi previsti dal governo non solo sono un'elemosina perché copriranno soltanto l'80% degli investimenti, ma arriveranno anche con estremo e ingiustificato ritardo. Una situazione che amareggia ancora di più gli obbligazionisti, uno stallo estenuante che ha portato Codacons di nuovo negli uffici della Procura romana per questo esposto. Chiediamo alla magistratura, dice ancora Rienzi, di intervenire per verificare se i colpevoli ritardi nei rimborsi in favore degli obbligazionisti delle quattro banche e nella procedura dell'arbitrato possano configurare reati quali l'appropriazione in debita e il ritardo in atti d'ufficio. Grazie.